Buonasera a tutti, buonasera Presidente Zaia, ciao Filippo, chi è? Siamo a porta, Nangolin, non fa passare, attento che passa da dietro, la conferenza Oh ciao, Luigi no, ma chi saluta? No, te l'hai risolta, perlita sul terasso, ma chi se ne frega? Siamo a porta, diga Fabio, non vanno entrare da quella parte lì Sì, vabbè, senta, Presidente, siamo qua Presidente, parli con noi Antonello, come va, Dena? Ti apprendi le tre quattro? Scusi, Presidente, ma conosci tutti i suoi elettori? Noi in Veneto siamo un grande condominio, abbiamo fatto assemblea Si chiamano elezioni Abbiamo rinnovato amministratore, sottoscritto Io ringrazio di questo Oh, Marzia, ciao Marzia Sì, Marzia, chi è Marzia? No, se era me solo Su, guardate, chiudetela sta porta Beppi, Beppi Ma chi è Beppi? Ma non ti avevo visto Presidente, per favore, vada avanti, non si perda Perdere io? Eh No Ma non in quel senso Abbiamo vinto Ma lo so Abbiamo vinto col 125% No, 77 No, eh, infatti 77? Sì, 77 Ma non era luglio del 2003? No Marzo? No, no, no No, ma sono queste elezioni Tonio, cos'era? Ma Presidente Ah, 77 Perché ricordavo un altro dato? Sì, va bene Però cos'è sto via vai? E' il caso Sì, Presidente Fermatevi un momento Mamma mia Allora, senta, Presidente Volevo Tu o il bambino Mettilo di lì Ah, chi bambini Presidente, volevo sapere Che cosa ha votato lei per il referendum? Allora Eh Non voglio sporcare questa conferenza stampa Non so se c'è qualcuno che vuole scopare Sforcare la conferenza stampa Sporcare Scopare Ma cosa c'entra? No, mi fate Che poi, no Ma prendono in giro Mi fa sporcare Vuoi sporcare la conferenza? Ma perché? E' solo sapere cosa ha votato Ragionateci sopra Nessuno vuole Allora, io non le rispondo Perché non voglio sporcare la conferenza stampa Va bene, va bene Senti, Tonio, ma i dati Cos'è che diceva dei dati? Eh, ora mi fa incassare qualcuno però Perché mi sono perso Ah, mi scusi, eh Che ho chiesto solo 77 Esatto Per cento dei veneti Vuol dire che mi ha votato a un veneto Cos'è un veneto? Gino, un veneto su sette, su quattordi Su ventotto Ma cosa sta dicendo? E chiudi a porta però Con il resto dei due ragionateci Ma chiudiamo sta porta Allora, è un risultato clamoroso Complimenti, insomma Adesso dino una roba che magari Farà incazzare qualcuno Sì, prego Dei miei avversari, no? Eh, dica Io vi prometto ai miei avversari Sì Che sarò presidente di tutti Bravo Anche di voi leghisti Ma no, ma no Guarda, anche lei è della Lega, eh Della Lega io? Eh sì No Ma come no? La Lega ormai è un partito nazionale Vabbè De un'altra nazione però Ah, quindi ce l'ha con Salvini? No Ma sì Non ce l'ho con Salvini Ma come no? Non c'ho niente contro Salvini Eh, vabbè Ma se io voglio aiutare Ma in che modo? Io dico aiutiamo Salvini Ah Ma a casa sua Ma come a casa sua? Ma no Ma no Dicevo proprio ieri sera citando Sanaca Il pittore fenicio del 1500 più IVA Avanti Cristo Ma che più IVA? Nel calacamean veitea Che diceva Il salame si mangia una fetta a vota Non lo diceva Invece che il ciliege Se strafoga solo il Mona Ma vedi che ce l'ha con Salvini? No, Salvini Ti ha dato del Mona? No Io l'ho con la sua smagna Adesso sempre su TikTok Per raccattare il sud Ah, lei dice Per me il massimo del sud Concepibile se è il Polesine Ma no Oltre il po' per me c'è l'Antartide Ma che è l'Antartide? Io voglio un'autonomia seria Sì, vabbè Decisa Sì Importante Sì Voglio un'autonomia Un'autonomia? Voglio un'autonomia Adesso c'è una roba che farei a incaccia a qualcuno Ma chi è? Cos'è? L'autonomia Sto po' areto qua Lavoro da Salvini E ti che è razzonti Ma chi è che ha parlato? Ma cos'è? Ma chi è? Ma chi è? Chi è che ha parlato? Lui? C'è il mio super ego Ma come? Mi si è gonfiato dopo le elezioni Ragionateci sopra Ragionateci sopra Chiudete questa porta del Veneto